Ho pensato che fosse una buona cosa parlare di politica in maniera piana, semplice, se posso darmi elegante, di spiegare cioè che cosa succede nei sistemi politici, non solo nel sistema politico, ma in generale, nei sistemi politici e più precisamente nelle democrazie. Spiegare come si organizzano, come funzionano, come i partiti svolgono un ruolo importante, come le istituzioni possono essere diverse, ma sono diverse in maniera funzionale, hanno costruito un equilibrio di rappresentanza e di governo, qualcuno dovrebbe dire di governabilità e discuterò anche di questo. Come sia necessario avere delle leggi elettorali che consentano ai cittadini di eleggere bene i loro parlamentanti, rappresentanti e che quei rappresentanti siano in grado poi di rapportarsi alle preferenze eventualmente mutate dei cittadini, ad accettare le loro valutazioni, a cercare di capire che cosa vogliono, che cosa desiderano che venga fatto, a che cosa si oppongono. Ho pensato che fosse utile anche riflettere sulla società, perché non è vero che la società civile è meglio della politica, anzi funzionano bene quei paesi dove o c'è un equilibrio tra una società politica civile attiva, vivace e, come direbbero gli americani, robusta e istituzioni forti che sono in grado di confrontarsi con questa società civile. Quando la società civile è debole le istituzioni rischiano di deragliare. Quando la società civile è più forte delle istituzioni allora c'è un problema. Il problema può diventare che quella società civile si organizza in maniera tale che non è davvero democratica. Al suo interno forse emergono strutture, gruppi più forti di altri che producono diseguaglianze, che dipendono anche dalla capacità organizzativa. Ho anche pensato di comunicare, dopo tutto questo dibattito enorme culminato in un referendum, che vi ricordo è stato vinto da coloro che non dicono necessariamente che la Costituzione non si deve toccare mai, ma dicono che se la si vuole riformare bisogna riformarla avendo una visione, sapendo di riformarla in maniera tale da renderla migliore, più adatta ai tempi attuali, ma non necessariamente come un cedimento a quello che succede. Ho pensato che in riferimento a quel dibattito, che incidentalmente non è solo un dibattito italiano perché anche altrove ci sono riflessioni sulle Costituzioni e anche altrove si fanno dei cambiamenti, degli emendamenti però non degli stravolgimenti. Ho pensato di spiegare anche come la scienza politica può contribuire in maniera efficace alla riforma delle istituzioni e alla riforma della politica. Abbiamo imparato moltissime cose, sappiamo moltissime cose, siamo in grado di indicare come migliorare sia le istituzioni, sia i partiti, sia la politica più in generale. Questo piccolo corso serve a questo, è naturalmente aperto a critiche, è aperto suggerimenti, potremo nel futuro fare meglio, però questa mi pare sinceramente una buona base di partenza, grazie di avermi ascoltato.